Grazie a tutti. Il più grande Ateneo d'Europa. Con oltre 120.000 iscritti tra studentesse e studenti e circa 8.000 tra docenti, ricercatrice, ricercatore e personale tecnico-amministrativo bibliotecario, la Sapienza è una delle più importanti realtà universitarie in Italia e nel mondo, con 58 dipartimenti, 11 facoltà, aule didattiche e laboratori all'avanguardia, impianti sportivi, musei, sale lettura, biblioteche aperte H24, gli spazi all'aperto e luoghi di condivisione. Il tutto accolto nel più grande campus universitario cittadino e in alcuni edifici storici di Roma e di altre città del Lazio. Un'offerta didattica caratterizzata da circa 300 corsi di laurea, tra quelli triennali, magistrali, a ciclo unico, in lingua italiana e in lingua inglese, tra i quali, solo per citarne alcuni, quelli dedicati agli studi classici, per i quali Sapienza anche quest'anno ha confermato il proprio primato mondiale, e quelli in archeologia, fisica, diritto e studi storico-religiosi, che collocano il nostro Ateneo tra le prime 50 migliori università nel mondo. In oltre 700 anni di storia, la Sapienza ha avuto il privilegio di ospitare alcune delle personalità più rilevanti nel panorama nazionale e internazionale, del mondo della cultura, delle scienze, delle arti in genere. Accanto a docenti illustri come Niccolò Copernico, Giuseppe Ungaretti e Stefano Rodotà, Sapienza ha ben otto premi Nobel, tra i quali Guglielmo Marconi per la fisica nel 1909, Daniel Bovet per la medicina e la fisiologia nel 1957 e Giorgio Pairesi, l'ultimo per la fisica nel 2021. Ad essi si aggiungono inoltre i numerosi alunni eccellenti, tra i quali mi fa piacere ricordare il politico, uno dei padri fondatori dell'Europa, Altiero Spinelli, la giurista Rosa Oliva, l'attore e regista romano Carlo Verdone, la campionessa olimpionica di Vera Caterina Banti e il paleologo e divulgatore scientifico Alberto Angela. Nonché donne e uomini che ricoprono attualmente alcune tra le più alte cariche istituzionali in Italia e in Europa, tra i quali il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi. Il futuro è passato qui, questo è il motto della nostra sapienza, custodire il passato, valorizzare il presente, ma soprattutto progettare e guardare al futuro. È per questo che da anni stiamo investendo risorse per promuovere la ricerca scientifica delle nostre ricercatrici e dei nostri ricercatori, per offrire proposte didattiche innovative che permettano alle nostre studentesse e ai nostri studenti di essere ancora più competitivi nel mondo del lavoro contemporaneo. E infine per favorire lo sviluppo di una società più vicina alle persone, che sia equa, inclusiva e contro ogni forma di discriminazione. Care ragazze e cari ragazzi, la scelta che vi apprestate a prendere è senza dubbio uno dei momenti fondamentali nella vita di ogni persona, ma qualsiasi sia la vostra decisione sull'università da frequentare o sul corso di studi da intraprendere, è fondamentale che tale scelte vengano prese con serenità e nel rispetto delle proprie aspirazioni personali e professionali. E' per questo infatti che Sapienza organizza numerose attività di orientamento anche nelle scuole e di tutorato durante l'intero percorso di studio, perché fare una scelta consapevole oggi significa innanzitutto essere protagonisti domani. Ne rivolgere quindi i miei migliori saluti a tutte e a tutti voi, auspico di potervi incontrare presto tra i viali del nostro studio Murbis, quali nuovi componenti della grande comunità Sapienza. Grazie a tutti i miei migliori saluti, La Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica, I3S, è stata la prima facoltà italiana interamente dedicata all'ICT ed oggi, con i suoi quattro dipartimenti, i oltre 250 docenti a cui si aggiungono i dottorandi e postdoc e i oltre 8.000 studenti, è una delle più grandi realtà accademiche di ricerca e di formazione scientifica ingegneristica sui temi dell'acquisizione, dell'elaborazione e trasferimento dell'informazione e dell'analisi delle opportunità economiche e gestionali offerti dalle tecnologie ICT. Preparare all'innovazione per essere attori della sfida digitale e all'evoluzione di Internet è l'obiettivo che caratterizza i corsi di laurea della Facoltà. La sfida è quella di incidere sullo sviluppo tecnologico, economico e sociale del Paese con riguardo alle aree culturali tipiche dell'ICT e dell'Innovation Management, l'ingegneria dell'informazione, l'informatica, l'ingegneria gestionale e le scienze statistiche. I studenti della Facoltà I3S trovano corsi di laurea in tutti i settori di punta dell'ICT con particolare interesse alla continua evoluzione nel settore della tecnologia dell'informazione. I nuovi corsi di laurea in Data Science, Informatics, Cyber Security e Applied Computer Science and Artificial Intelligence sono esempi di questa attenzione. La Facoltà dimostra una forte proiezione internazionale è quella che in Sapienza offre il maggior numero di corsi in inglese e la possibilità di contatti con Atene europei ed extraeuropei. L'attenzione alla qualità della didattica e alle esigenze degli studenti sono obiettivi costanti. Sono proposti per corsi di eccellenza a studenti meritevoli ed interessati ad attività di approfondimento. Numerosi sono i corsi di laboratorio nei quali l'attività sperimentale accompagna e complementa le nozioni teoriche impartite nei corsi tradizionali. Gli studenti hanno a disposizione inoltre spazi comuni per lo studio e per la socializzazione. Collaborazione con le aziende del settore e possibilità di un rapido inserimento nel mondo del lavoro. Sono costanti gli stage e i progetti di cooperazione con le aziende leader italiane ed estere nel settore dell'ICT ed è stimolata la creazione di start-up per la valorizzazione delle migliori idee di ricerca e sviluppo. Essere studenti della facoltà I3S significa essere oggi e domani protagonisti dell'innovazione. Buon pomeriggio a tutti. Io sono Carlo Di Politi, sono un docente del Dipartimento e ancora per poco il Delegato per l'Orientamento e il Tutorato della Facoltà. Vi do il benvenuto alla conferenza di presentazione dei nostri corsi formativi della Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica. Brevissimamente vi dico ora come si svolgerà questo nostro incontro chiedendovi per favore di tenere domande e altre necessità di informazioni verso la fine. Infatti inizieremo praticamente subito con un intervento del nostro Preside, il professor Fabio Grasso che vi darà un'introduzione generale della facoltà spiegando chi siamo e cosa facciamo. Abbiamo poi gli interventi di quattro colleghi che parleranno nell'ordine dell'offerta formativa del Dipartimento di Informatica il professor Paolo Bottoni e Stefano Faralli dell'area di Ingegneria delle Comunicazioni ed Elettronica il professor D'Alessandro poi abbiamo l'area di Statistica la professoressa Maria Brigida Ferraro. Questi colleghi si concerteranno soprattutto sugli aspetti dell'offerta formativa quindi vi diranno che cosa si studia se vi iscrivete lì dopodiché parlerò brevemente io per dirvi gli aspetti un po' più pratici come ci si iscrive, come è fatto il test d'ingresso, dove ottenere maggiori informazioni e chiuderemo con una breve testimonianza di alcuni nostri studenti e studentesse e ripeto eventuali vostre domande che doveste avere. Da subito vi ricordo che se non riuscissimo ad esaurire tutte le domande che poteste avere siamo sempre a disposizione qui allo stand sul viale principale della Sapienza quindi venite a cercarci al limite subito dopo all'uscita. Lascierei quindi la parola al Preside. Grazie Carlo Innanzitutto do il benvenuto a tutti voi che siete oggi presenti in quest'Aula mi fa veramente molto piacere vedervi così numerosi dopo tanto tempo auspico che questa nostra conferenza possa essere interessante e soprattutto utile per quanti tra voi sono presenti e sono impegnati a scegliere nelle prossime settimane il proprio percorso di studi universitari. In questa mia breve introduzione vi darò qualche informazione di carattere generale sulla nostra facoltà ovviamente in modo particolare rispetto alle attività didattiche La nostra facoltà è nata nel 2010 è la più giovane facoltà tra le 11 presenti nel panorama di Sapienza ed ha la caratteristica di essere una facoltà chiaramente dedicata orientata al settore dell'ICT Cosa significa questo? Significa che all'interno della facoltà trovate nel corpo docenti, ricercatori tutte quelle conoscenze, quei saperi, quelle competenze che sono assolutamente necessarie per realizzare progetti didattici di ricerca nell'ambito di questo settore In estrema sintesi, metodologie, tecnologie per l'acquisizione, elaborazione e il trasferimento dell'informazione Qualche numero, la facoltà consta oggi di 275 docenti e poco meno di 10.000 studenti È significativo il fatto che le immatricolazioni sono state in questi 12 anni in costante aumento Le aree che caratterizzano le attività didattiche e di ricerca della facoltà sono quelle che vedete in questa pagina Area informatica, area ingegneria dell'informazione e area statistica Non è un caso che la denominazione della facoltà corrisponda esattamente alla somma algebrica di queste tre Poi vi sono i dipartimenti I dipartimenti sono strutture fondamentali nell'attuale organizzazione dell'università perché ai dipartimenti compete oggi, come competeva prima della riforma del 2010, l'attività di ricerca Ma dopo il 2010 ai dipartimenti compete anche l'attività didattica I corsi di studio che adesso verranno brevemente elencati e sui quali i colleghi poi potranno soffermarsi più in profondità sono corsi di studio di pertinenza di uno o più dipartimenti La facoltà svolge un ruolo di coordinamento I quattro dipartimenti della nostra facoltà sono quelli che vedete qui elencati L'offerta formativa Io mi limito a mostrarvi questa pagina con l'elenco degli attuali corsi di laurea Questa è l'offerta formativa dell'anno accademico che viene, 2022-2023 I corsi di laurea magistrale sono quelli che vedete in questa ulteriore pagina Mi piace segnalare alcune proposte formative che sono frutto della stretta collaborazione tra i nostri dipartimenti Quando vedete interdipartimentale significa che quella proposta didattica è frutto appunto della collaborazione di due o più dipartimenti tra i quattro Segnalo in particolare il corso di laurea magistrale in Data Science perché ad esso partecipano tutti e quattro i dipartimenti della facoltà Poi vedete in questa pagina elencati altri corsi di studio Cosa significa questo? Vedete corsi di laurea, laurea magistrale Sono corsi di studio, triennali o magistrali che sono originati da strutture esterne alla nostra facoltà Quindi dipartimenti di altra facoltà Ai quali però noi partecipiamo I nostri dipartimenti, alcuni nostri dipartimenti partecipano Vedete tra l'altro segnalate alcune proposte nuove Cioè corsi che si attivano nell'anno accademico 2022-2023 Frutto di collaborazione ad esempio della nostra facoltà con la facoltà di Scienze, Matematiche, Fisiche e Naturali Con la facoltà di Lettere e Filosofia Con la facoltà di Medicina e Farmacia L'accesso ai nostri corsi di laurea Qui ovviamente mi riferisco a ciò che più interessa evidentemente oggi voi I corsi di laurea Abbiamo due modalità Alcuni corsi di laurea cosiddetti a numero programmato Quindi laddove c'è una limitazione numerica all'ingresso E corsi dove non c'è questa limitazione Vi è soltanto una prova iniziale di verifica delle conoscenze Ma su questo aspetto il collega Carlo Di Politi poi entrerà in seguito Naturalmente l'offerta formativa Non si limita al primo livello corsi di laurea E al secondo livello corsi di laurea magistrale Ma è integrata da corsi di master E di dottorato di ricerca Che non sono presenti in queste slide di estrema sintesi Che comunque trovate numerose Nell'ambito dell'offerta formativa Dei dipartimenti della nostra facoltà Alcuni elementi che caratterizzano L'offerta formativa della nostra facoltà Quindi trovate in tutti i nostri corsi Naturalmente con qualche differenza Tra l'uno e l'altro Innanzitutto l'innovazione tecnologica Che è innanzitutto testimoniata Da un numero consistente Di laboratori didattici e di ricerca Di competenza dei dipartimenti O direttamente della facoltà Alcuni con laboratori Che si caratterizzano per una alta Molto alta specializzazione E anche su questo i colleghi Vi daranno alcuni esempi molto significativi Percorsi di eccellenza Sono stati recentemente introdotti E quasi tutti i nostri corsi di studio Hanno attivato questi percorsi di eccellenza Per stimolare ulteriormente Gli studenti che sono più interessati Ad attività di approfondimento E integrazione culturale Il tutorato Il tutorato è molto importante Nell'ambito del nostro Ateneo E nella nostra facoltà Questo numero da solo Credo che sia molto significativo 120 tutor Per oltre 6.000 ore Anni di tutorato A disposizione degli studenti In particolare gli studenti Del primo anno di corso L'internazionalizzazione La nostra facoltà Ha 11 corsi di studio Erogati in lingua inglese È il numero più alto All'interno dell'Ateneo E sono molto numerosi Come vedete Sintetizzata da questa pagina I rapporti Internazionali In particolare nell'ambito Dei diversi programmi Erasmus Guardiamo Anche già subito Al dopo E qui Questo grafico Ci mostra Secondo i dati Del Consorzio Universitario Alma Laurea Di questo anno Come a un anno Dalla laurea triennale Lavora Poco meno del 50% Degli studenti laureatisi L'anno precedente Parliamo di laurea triennale Bisogna prestare Molta attenzione Nel valutare Questo dato Perché va accompagnata Dall'informazione Che trovate Qui Che il 59% Degli studenti Che si laurea Prosegue negli studi Con una laurea magistrale Molto significativo Molto significativo è questo dato A 5 anni Dalla laurea Lavora Il 94% Degli studenti Qui riferimento Ai laureati magistrali E questo dato Del 94% Lo vedete anche Confrontato Con l'analogo Delle altre 10 facoltà Del nostro Ateneo Con la media sapienza Che vedete È il primo dato In grigio A sinistra La soddisfazione Degli studenti L'82% Degli ex studenti Dichiara Che si iscriverebbe Nuovamente A un corso Di laurea Della facoltà Anche qui Il confronto Con la media sapienza E anche Con la media nazionale Credo che sia Molto significativo E infine Il 90% Degli ex studenti Dichiara Di essere Complessivamente Soddisfatto Del percorso Di studi Intrapreso Anche qui Gli analoghi Confronti Sapienza E Italia Parlavo del tutorato Prima L'orientamento L'orientamento È un altro Elemento A quale La facoltà E i suoi Dipartimenti Dedicano Molto impegno Ed energie Sia all'ingresso Quindi Open day Giornati di incontro Con le scuole L'alternanza scuola-lavoro Con la nuova denominazione Ma anche in uscita Sono molto Consistenti E stretti Rapporti Instaurati Con le realtà Produttive Più significative Negli ambiti Di interesse Le figure Professionali Questa pagina Ha un Un elenco Ovviamente Non esaustivo Di figure Professionali Formate All'interno Della nostra Facoltà Un solo dato Trovate Figure professionali Classiche Tradizionali Che Sono assolutamente Fondamentali Oggi Come lo erano Molti decenni Fa E invece Figure professionali Che sono frutto Dell'evoluzione Della ricerca Nel corso Degli ultimi Decenni O anche Anni Alcuni esempi Data scientist Ancora una volta Data analyst Il Percorso Di studi Nell'ambito Della Cyber security E Altri Nell'ambito Delle figure Professionali Segnalo Poi Due L'attuario E l'ingegnere Dell'informazione Che sono Figure professionali Riconosciute Dalle Legislatore Per le quali Vi è un albo Professionale Nazionale Corsi Di studio Della Nostra Facoltà Formano Adeguatamente Per Queste Figure Professionali Servizi Della Facoltà Segnalo Perché Molto Importanti Due Servizi Il garante Degli studenti Che è un riferimento Fondamentale Per studenti E studentesse E il referente Per gli studenti Disabili E con DSA Disturbi Relativi All'apprendimento Colleghi Colleghi Che Leggete In questa Slide Sono i nostri Referenti E svolgono Un ruolo Molto importante A favore Dell'intera Collettività Degli studenti Concludo Con questa Pagina Dove Trovate Sintetizzate I I vari Riferimenti Dal sito Ai canali Social Ed io Vi ringrazio Molto E lascio La parola Ai colleghi Che seguiranno Grazie Come vi dicevo Partiamo dal Professor Bottoni Che presenterà I corsi Del Dipartimento Di Informatica Mi scuso Con il professor Lenzerini Perché prima Ho dimenticato Ovviamente Di dire Che ci sarà Presentazione Anche dei corsi Della radio Informatica Automatica E gestionale Nonché dei corsi Della serie di Latina Buongiorno Io sono Paolo Bottoni Sono il responsabile Per l'orientamento Del Dipartimento Di Informatica E vi dirò Qualche cosa Sul Dipartimento E sui corsi Che Che proponiamo Allora Il Dipartimento Di Informatica Il Ministero Fa delle esercitazioni Diciamo Che poi Corrispondono Anche A finanziamenti Sulla valutazione Dei Dipartimenti Il nostro Dipartimento Nella valutazione Del 2018 Risultato primo Classificato Punteggio pieno Nella lista Dei top 100 Dipartimenti Italiani Tutte le discipline Quindi non solo Informatica E nella sua categoria Che è quella Dei Dipartimenti Di piccola Media dimensione In informatica E risultato primo Nella valutazione Quinquennale Svolte Nel 2013 E nel 2017 Questo per dirvi Diciamo Siamo un Dipartimento In cui Ci sono Delle competenze Competenze Che cerchiamo Di trasmettere Ovviamente Ai nostri studenti Queste due prime Classifiche Diciamo Riguardano Il Dipartimento Del suo complesso E poi abbiamo Una serie Di riconoscimenti Che sono stati dati A ricercatori Individualmente All'interno Del Dipartimento Nella storia Del Dipartimento Questo per dirvi Se volete Fare informatica È una proposta Interessante Che cosa Che cosa offriamo In termini di corsi Di laurea Offriamo due lauree Triennali In italiano L31 È la classe Delle lauree In informatica Secondo le tabelle Ministeriali Una in presenza A numero programmato Come è stato Già descritto E una invece In teledidattica Questa è In collaborazione Con Unitelma Che è Una università Specializzata In corsi In corso in teledidattica Fornisce la piattaforma Tecnologica Noi forniamo I contenuti Dei corsi Il primo A numero programmato Questo accesso aperto Ma sempre richiede Un test Di verifica E le conoscenze Come Indicato Abbiamo Da Breve Tempo Quest'anno Apriamo Il terzo anno Per la prima volta Una laurea In inglese Sempre nella classe L31 Anche questa Numero programmato Più orientata A tematiche Di artificial intelligence Di machine learning Di applicazioni Avanzate Offriamo anche Tre magistrali Una interamente Offerta dal dipartimento E In inglese Due Invece Come Descritto dal preside Interdipartimentali Insieme Alla Facoltà Queste Come vedete Sono Classi di laurea Diversa La LM18 È la Proprio La classe Di laurea Delle magistrali In informatica Le altre Sono Specialifiche Rispetto a Problemi Di data Science E di Cyber Security Allora Perché studiare Informatica Molti di voi Hanno già Un'idea Forte Di Quello Che vogliono Quello Che vogliono Fare Io vi offro Questa Questa Prospettiva Studiare Informatica Per Imparare A esprimere Problemi E soluzioni In termini Computazionali Quindi Riuscire a capire Che cosa Vogliamo fare Qual è il problema Che abbiamo davanti Riuscire a modellarlo E riuscire a estrarre E astrarre Quali sono le caratteristiche Di questo problema Che ci permettono Poi di sviluppare Sistemi I programmi Che possono Servire O alla loro Soluzione Immediata O ad Supportare Altri Sistemi O persone Responsabili Per Trattare Questi problemi E quindi Trasformare L'idea Che ci siamo Fatti Di queste Di queste Situazioni In Sistemi Informatici In programmi In applicazioni Innovative Ma in maniera Professionale E quindi Non solo Risolvendo il problema Ma spiegando Anche come L'abbiamo risolto Rendendo comprensibile Ai nostri Collaboratori Ai nostri Interlocutori Quali sono i Meccanismi Che ci portano A questa Soluzione Ovviamente Questo Affre la Prospettiva Anche a Possibilità Di lavoro Che non siano Semplicemente Diciamo Routinarie Ma che Possano Entrare In Aziende Dinamiche Innovative Anche in Campo Internazionale Vorrei fare Un disclaimer Quindi Studiare informatica Per fare Quello Non Studiare informatica O per meglio dire Non iscriversi A una laurea In informatica Semplicemente Per imparare A programmare Per Fare Quello Che il mio Mentore Ai tempi Dice Affiondarsi Sulla tastiera Ci viene un'idea Subito Andiamo A scrivere Un programma Che la risolve No Il nostro La nostra Impostazione È Ovviamente Imparerete A programmare E imparerete A programmare In termini Anche Sofisticati Ma imparerete Soprattutto Delle metodologie Quindi Usare Metodi Rigorosi Basati Su logica Basati Su strumenti Matematici Basati Su strumenti Che la disciplina Informatica Nel Suo Relativamente Breve Periodo Rispetto Ad altre Scienze Ha comunque Sviluppato Che sono Metodi E strumenti Propri Dell'informatica E non Semplicemente Derivanti Da altre Cose Quindi Metodi Per esprimere Problemi Specificare Soluzioni Efficienti Quindi Che tengono Conto Delle risorse Disponibili Sotto forma Di programmi Progettare E documentare Quello Che si fa Renderlo Intelligibile Anche Ad altri Che non Necessariamente Sono esperti Di informatica Ma che vogliono Capire perché Un programma Fa Certe cose E ovviamente Programmarlo Come dicevo Le lauree triennali Che offriamo Sono quelle in informatica Quella in inglese In Applied Computer Science Artificial Intelligence Ho messo a confronto I diversi anni Non vado Nel dettaglio Potete ovviamente Trovare Dettagli Nel catalogo Dei corsi di studio Nella descrizione Dell'offerta formativa Ma Quello che potete vedere È che Si sono Nel primo anno E nel secondo anno Ci sono Delle basi Matematiche E Nel caso Di Applied Computer Science Anche di Statistica Assieme A Corsi Insegnamenti Che sono Più propriamente Di informatica Nel terzo anno Questi due anni Sono Tutti fatti Di corsi obbligatori Quindi A seconda Del corso di laurea Tutti farete Gli stessi insegnamenti Nel terzo anno Ci sono Altri due corsi Obbligatori Ingegneria del software Che Diciamo È appunto Su queste metodologie Di gestione Di progetto E Otomi Calcolabilità Complessità Che È La parte Diciamo Più Teorica Se Se vogliamo Dell'informatica Quindi Anche capire Che cosa è possibile Realizzare Computazionalmente E cosa E cosa No Dopodiché Offriamo Due orientamenti Metodologico E tecnologico Con Quindi Una Divisione Parziale Degli insegnamenti Che si possono Seguire Nel terzo anno A seconda Dell'insegnamento Dell'orientamento Scelto E ovviamente Ci sono Dodici crediti A scelta Dello studente Come in tutti I corsi I corsi Di largo Per quanto Riguarda Il terzo anno Di Applied Computer Science Artificial Intelligence Di nuovo Troviamo Ingegneria Del software Che si chiamerà Software Engineering In questo caso E una serie Di seminari Avanzati Per darvi Delle prospettive Su vari temi E poi Corsi Quattro Corsi A scelta Fra Quelli Che vedete Diciamo Orientati Soprattutto Alle applicazioni Come In tutte le lauree Trennali Si va a concludere Con un tirocinio Formativo Che può essere Svolto Internamente Nell'ambito Del corso di laurea O esternamente Presso aziende Enti Che ha sempre Comunque Diciamo Un contenuto Progettuale Barra Realizzativo E che Costituisce La base Per la discussione In sede Di esame Di laurea Dal punto di vista Del rapporto Con le aziende Con il mondo Del lavoro Come diceva Il preside Noi offriamo Iniziative Specifiche In particolare Due Iniziative Che chiamiamo IT Meeting Che si svolgono Alla fine Dei rispettivi Semestri Ogni anno In cui Invitiamo Aziende Del settore Tipicamente In area Lazio A incontrare Gli studenti A fare le loro Proposte Di tirocinio Di offerte Di lavoro Di internship Eccetera E offriamo Anche la possibilità Di fare Diciamo Degli speed date Quindi Delle simulazioni Di colloquio Per capire Qual è La relazione Che si può Instalare Con Un'azienda Chiudo Semplicemente Dicendo Che la laurea In teledidattica Offre Diciamo È un parallelo Di quella In presenza Quindi con le stesse Docenti Con tutor Forniti al dipartimento Ma sulla base Di lezioni Già Registrate Salto Questo pezzo Vi do Perché credo Di aver finito il tempo Vi do Questo riferimento Studiare informatica Uniroma 1 IT Che è più specificamente Per i corsi Del nostro dipartimento E che va a integrare Quello che potete trovare Sul sito Dell'offerta formativa Grazie E Buon Proseguimento Ringrazio il collega E passo la parola Al professor Antonio D'Alessandro Il quale ci mostrerà L'offerta formativa Nell'area dell'ingegneria Delle comunicazioni E dell'elettronica Buon pomeriggio Anche da parte mia A tutti Benvenuti E Rappresento qui Diciamo Non solo il mio Corso D'area Di Consiglio D'area didattica Quello di ingegneria Elettronica Amici tutto Il dipartimento Di ingegneria Dell'informazione Elettronica E telecomunicazioni Che concentrandomi Un po' Sull'offerta Didattica Diciamo Principale Che appunto Sono i percorsi Sia di primo livello Che di Secondo livello Di ingegneria Elettronica E ingegneria Delle comunicazioni Che a pieno titolo Diciamo Sono tra I percorsi formativi Nell'ambito Che già il preside Aveva Introdotto Diciamo presentando La facoltà Dell'information Communication Technology Questo termine Che è relativamente Diciamo recente Cognato Probabilmente Nel Fine Degli anni 90 Del secolo scorso In UK Ma poi Diciamo Formalizzato E quindi Poi acquisito Anche dalla comunità Diciamo Scientifica Nelle Nazioni Unite E quindi Che si fa riferimento A qualunque sistema In grado di Magazzinare Ripescare Elaborare Trasmetterlo Ricevere Informazione Elettronicamente In forma Digitale Questo Diciamo È un po' Il tema Principale Ecco Lo scopo Anche principale Del nostro Percorso Che Di tutti e due I corsi Di laurea Direi Che va A Entrare Proprio Nella struttura Sia fisica Ma anche Appunto Dei meccanismi Di funzionamento Di quello Che è un sistema Di comunicazione In cui abbiamo Una sorgente Che produce Diciamo Dei segnali Che vengono Trasferiti Nel dominio Elettronico Anche ottico Per poi Diciamo Restituirli Al destinatario Destinatario Dove la sorgente Del destinatario Possono essere Persone Ma anche macchine Oggi si parla Di internet Of things Di oggetti Che dialogano Attraverso La rete Attraverso Diciamo Un'interconnessione Complessa Di canali Di comunicazione E infatti Diciamo Ingegnere Delle comunicazioni Entra Nel merito Dei processi E Delle modalità Con cui vengono Trasmessi I segnali Nelle più svariate Applicazioni Non soltanto Nel campo Delle comunicazioni Che Diciamo Comunque Hanno giocato Un ruolo Direi Da protagonista Per mantenere Vive anche Le nostre Relazioni Sociali Durante Il periodo Più Aspro Della pandemia Da cui Diciamo Stiamo Con ancora Grande difficoltà Uscendo Ma che ci ha dato Nuove E aperto Nuove opportunità Con cui Tessere Diciamo Intensificare Le nostre Relazioni Sociali Ecco appunto L'ingegnere Delle comunicazioni Si concentra Proprio Su questi Obiettivi Studiando Forme Sempre più Articolate Ed efficienti Di Di comunicazione Diciamo Ora Non bisogna Essere ingegneri Elettronici O ingegneri Delle comunicazioni Per Amnasticare Termini Come 3G 4G E Così via Ecco Questo Infatti Diciamo Quello che Percepiamo Quotidianamente Sempre più Importante Nella nostra vita Quotidiana Su tutti Gli aspetti Ecco Qui si vede Dal Un rapporto Della Sisco Che Misura Ecco Il numero Di Utenti Di Internet Su scala Vedete Dei miliardi Crescere Sempre progressivamente Negli ultimi Cinque anni E quindi si prevede Ancora In continua Crescita Come pure Il numero Di dispositivi Come vedete Qui Che aumentano Dove Non è soltanto I nostri cellulari Che abbiamo Tra le mani Ma Ripeto Anche Le auto Per esempio Ormai Sempre più Interconnesse E Anche Pensate Alla Possibilità Di comunicare Con i nostri Elettrodomestici A casa Giusto Per fare Ecco Qualche Esempio Un po' Più Banale Ma fino A arrivare Per esempio Alla telemedicina La possibilità Anche Per esempio Per i medici Di operare A distanza Quindi si tratta Di sistemi Sofisticati Grazie allo sviluppo Delle comunicazioni E L'elettronica Invece Entra Nel cuore Di quelli Che Oserei Chiamare I nuovi Motori Cioè Appunto I processori I microchip Che sono Ormai Al centro Di qualunque dispositivo Che maneggiamo Ci portiamo dietro Ogni giorno Non solo Il computer Gli smartwatch Le auto stesse Per esempio Ormai Sempre più Dipendenti Dalla presenza Di decine Di processori Che controllano Non solo La parte meccanica Ma la parte Della sicurezza Che è aumentata Grazie alla disponibilità Di sensori Controllati Elettronicamente E Per andare Fino anche Allo sviluppo Di sistemi Per esempio Nell'esplorazione Spaziale Quindi Diciamo Il ventaglio Di applicazioni Come vedete È molto ampio Ma che Diciamo Vede L'ingegnere elettronico Protagonista Diciamo Degli oggetti Che rendono possibile Molte delle applicazioni Che noi vediamo Oggi In tutti gli ambiti Delle nostre attività E qui ancora Per ricitare Di nuovo Cisco Vediamo invece Lo sviluppo Dei dispositivi Elettronici In continua crescita Quasi diciamo In modo simile All'uso Di internet E delle reti Proprio per Farvi Diciamo Apprezzare Che è un mondo Che richiede Continuamente Formazione In questo settore E quindi Questo è il nostro Ruolo Diciamo Nell'ambito Della nostra Facoltà Infatti Diciamo L'elettronica Il percorso Diciamo In ingegnere elettronico È quasi un percorso Verticale Che parte Dai principi fisici Ai materiali Alla comprensione Di dispositivi Ma fino ad arrivare Alle architetture Ai sistemi Digitali Con le varie Tecnologie Che consentono Le applicazioni Di cui Diciamo Vi dicevo In cui C'è un'interazione Continua Tra macchine Persone Cose Diciamo E l'ambiente Stesso E tutto questo Diciamo Come vedete È parte Della formazione In ingegnere elettronico Che è una formazione Alla fine Multidisciplinare E fortemente Abilitante Anche a dialogare Con competenze Diverse Ingegneria elettronica Anche se la nostra facoltà È molto giovane Però la nostra storia Anche di tutti i dipartimenti È ben più antica E quindi Viene da una lunga tradizione Non tanto vecchia Quanto la sapienza Del 1300 Però sicuramente Da quando le nuove Tecnologie Si sono affacciate Il panorama italiano La sapienza È stata al centro Diciamo Protagonista Della Della formazione Diciamo In questo ambito Qui giusto Per darvi Qualche Spunto storico E anche Farvi vedere Diciamo La splendida Sede Di San Pietro In Vincoli Che è una Delle sedi Che Chi frequenterà I corsi Di ingegneria elettronica E comunicazioni Avrà il piacere Secondo me Di apprezzare Il suo patrimonio Culturale Storico E artistico L'elettronica Come dicevo Consente Di Indagare Dal Da dimensioni Di tipo Alla Nanoscala Ormai Le dimensioni Dei transistor Sono Appunto All'ordine Dei migliordesimo Di Di metro Fino Diciamo Ai grandi sistemi Anche Avete visto Questi ultimi giorni Il Le immagini Del telescopio Web Sicuramente C'è tanta elettronica Lì dentro Sicuramente C'è il contributo Di molti Ingegneri elettronici Che hanno consentito La realizzazione Diciamo Di questi Gioielli Della tecnologia Utili Per Anche Il progresso Appunto Scientifico Come Diciamo Gran parte Della formazione Tutti e due I corsi di laurea Si articolano Sui tre livelli Della formazione Dalla laurea triennale Alla laurea magistrale Fino al dottorato Di ricerca In information Communication Technology Per coloro Che intenderanno Anche dopo La laurea magistrale Approfondire La loro formazione Spendibile Sia in campo Industriale Che nel settore Della ricerca Voglio sottolineare È stato Già menzionato Ampiamente Nell'introduzione Del preside Ma anche nel filmato Di apertura Che avete visto Un grosso lavoro Devo dire Che ci vede impegnati Da anni Ci ha portato A produrre Laboratori Sempre più Efficienti E attrezzati E stiamo continuando Ancora a potenziarli Ulteriormente Ma sicuramente I nostri allievi Sin dal primo anno Attraverso i corsi Di fisica Poi di elettronica Di misure Frequentano I nostri laboratori Fino al completamento Del ciclo Anche nell'area magistrale Come vedete Da queste fotografie In cui anche Molti dei lavori Di tesi Vengono svolti Nei gruppi di ricerca Attraverso i loro laboratori Che vi invito A visitare Contattandomi Direttamente In Assemble Degli Invincoli Infine Anche Come menzionato Anche dal preside L'impegno Nel campo internazionale E molto Intenso Con Percorsi Doppio titolo Per esempio Con Georgia Tech Ma anche Con le grandi Col francesi Oltre ai programmi Erasmus Che vedono Molti dei nostri studenti Integrare La loro formazione In grandi sedi Universitari A livello europeo Chiudo soltanto Così Darvi un'immagine Visiva Di quello Che è l'ampio Spettro Diciamo Del mondo Del lavoro Capace Di accogliere Le competenze Degli ingegneri Che vengono fuori I nostri corsi Di studio Che vedono Tra le percentuali Diciamo Più elevate In impiego Nel settore In cui Si studia Diciamo Quindi diciamo Alla fortuna È quello Di riuscire A trovare lavoro Proprio Nell'ambito In cui avete trovato E avete Diciamo Approfondito I vostri studi Io Chiudo Semplicemente Augurando Di fare Una scelta Saggia Una scelta Consapevole Dandovi anche La nostra disponibilità A contattarci Ulteriormente Anche per una visita Più approfondita Delle nostre Della nostra sede I nostri laboratori Grazie E auguri In bocca al lupo Grazie Grazie A professore D'Alessandro E con l'augurio Di una scelta Consapevole Che condivido Passerei la parola Al professore Lenserini Che ci parla Dell'area Di ingegneria Dell'informatica Automatica E gestionale E dell'area Di ingegneria Dell'informazione Della sede di Latina Allora sì Buon pomeriggio E due parole Anch'io Sul dipartimento Che sto in questo momento Di cui sto trattando Il dipartimento Di ingegneria Informatica Automatica E gestionale Antonio Ruberti Il dipartimento È uno dei centri Di ricerca Di eccellenza Nell'information Technology Numerosi Sono i riconoscimenti Internazionali E prestigiosi Grant Insomma Un po' simile A quello che abbiamo Detto Del dipartimento Di informatica E ecco Voglio solo ricordare La figura Di Antonio Ruberti Alla quale È dedicata appunto Il dipartimento Preside Della facoltà Di ingegneria Qui alla sapienza Rettore Ministro Delle università E della ricerca Commissario europeo Per la scienza E della ricerca È stata Una delle figure Più importanti Nel campo Dell'ingegneria Del secolo scorso Allora Che cos'è il DIAG Il DIAG Raccoglie Competenze Su Tre grandi temi Dell'attuale società L'informatizzazione L'automazione E la gestione Che cosa vuol dire Informatizzazione Lo sappiamo tutti L'impatto Che l'informatica Ha Sulle varie organizzazioni Sulle istituzioni Sulle aziende Negli ultimi anni È veramente Veramente formidabile E quindi Diciamo L'informatizzazione Grande tema E ovviamente Tema di ricerca Trattato Nel nostro dipartimento L'automazione L'automazione Riguarda Uno dei sogni Dell'uomo Cioè quello Di costruire macchine Che in qualche modo Supportino Addirittura sostituiscano Dei compiti Ripetitivi Che l'uomo fa Quindi L'automazione industriale La robotica È anch'esso Uno dei grandi temi In questo momento E siccome abbiamo parlato Di organizzazioni Di istituzioni Magari di grandi Organizzazioni Un altro tema fondamentale È la gestione Di questi sistemi Complessi E quindi Anche in questo caso Il dipartimento Offre competenze E attività di ricerca Che riguardano La gestione Di questi sistemi Cioè l'impatto Che questi sistemi Hanno Nelle organizzazioni In cui devono funzionare Ovviamente Al centro Di tutto Questo Da una quarantina Di anni C'è il concetto Di informazione E Se vogliamo Queste tre aree Che sono Fondamentali Nel Dipartimento Di cui sto parlando Corrispondono Sostanzialmente A tre grandi Branche Delle ingegnerie Ingegneria informatica Ingegneria automatica Ingegneria gestionale E sono queste Le tematiche Relative ai corsi Di laurea Di cui parlerò In questo momento Voi sapete Che l'offerta formativa Dell'università Si dipana Attraverso La laurea triennale La laurea magistrale Quindi in questo momento Parlerò Della laurea triennale Poi solo brevemente Accenerò Alle lauree magistrali Offerte All'interno Del dipartimento Allora Sono tre Le lauree triennali Che il dipartimento Di ingegneria informatica Automatica e gestionale Offre La laurea ingegneria Informatica E automatica Vedete che queste due tematiche Sono messe insieme Nella laurea Di cui sto parlando E che però Ha due propri indirizzi Indirizzo informatica Indirizzo automatica La laurea Ingegneria gestionale Che è un indirizzo unico Che si occupa Della tematica Di cui abbiamo parlato In questo momento E poi c'è una laurea Offerta Latina Che in realtà Raccoglie tematiche Che riguardano L'informatica Il gestionale E l'elettronica E l'abbiamo chiamato Appunto Ingegneria dell'informazione Perché raccoglie Parte Di quello che abbiamo detto Essere l'ICT E qui infatti Ci sono tre indirizzi Corrispondenti Alle tematiche Di cui ho parlato Allora adesso Molto brevemente Parlerò Dell'ingegneria Informatica automatica Da una parte Poi quella gestionale E poi La laurea Ingegneria dell'informazione A latina Che cos'è L'ingegneria informatica Automatica Sono basati sulla tecnologia Della computer science Dei computer E che Voi trovate Realizzati E utilizzati Nella vita Di tutti i giorni Ormai in maniera Diffusa Capillarmente Non c'è Ambito In questo Ho tentato Di trovare Un ambito In cui Dietro Non ci sia Un sistema informatico E non l'ho trovato Tutti i sistemi Che voi utilizzate In questo momento O tutti gli ambiti Importanti Nella società Hanno dietro Qualche sistema informatico Dietro tutte le app Ci sono sistemi informatici Dietro tutti i sistemi Di e-commerce Ci sono sistemi informatici Dietro la sanità Dietro la pubblica amministrazione Dietro la finanza Sono Cosa sono quindi Questi sistemi Sono dei sistemi utilizzati E progettati Opportunamente Per svolgere Certe funzioni E che si avvalgono Dell'utilizzo Delle tecnologie informatiche Quindi prima di tutto Il computer E cosa fa L'ingegnere informatico Rispetto a questi sistemi Prima di tutto Ha la capacità Di concepirli Specificarli Progettarli Realizzarli Ovviamente Utilizzando Linguaggi di programmazione Tecniche di programmazione Eccetera Inserirli all'interno Del sistema Di hardware E poi Non solo Ma anche gestirli Cioè manutenerli Farli evolvere E soprattutto Questo forse è un aspetto Importante Che riguarda proprio L'ingegneria Fare in modo Che questi sistemi Si calino Nel contesto In cui funzionano Quindi Questa possibilità Questa necessità Di far funzionare Sistemi Nell'ambito Dei contesti In cui devono funzionare È propria Dell'ingegneria Perché richiede Anche Non solo La specializzazione In un campo In questo caso L'ingegneria informatica Ma anche Saper Comunicare Con altre figure Professionali Per esempio L'ingegnere elettronico L'ingegnere Telecomunicazione O lo statistico E quindi Questa caratteristica Principale Dell'ingegnere informatico Forse è quello Che differenzia Rispetto All'informatico C'è sempre La domanda Chiave Qual è la differenza Tra informatico E ingegnere informatico Vi dico subito Che in moltissimi paesi Questa differenza Non esiste Nel senso L'offerta formativa È fatta Ed è svolta Da un'unica Facoltà In Italia Per ragioni storiche C'è questa differenziazione E se vogliamo proprio Andare a tentare Di capire Qual è la differenziazione La cosa Dobbiamo Dobbiamo guardare Alla terminologia Noi siamo Ingegneri Informatici Quindi abbiamo anche Qualche attenzione Verso materie Limitrofe All'informatica Mentre magari L'informatica Ha più Attenzione Verso le materie Scientifiche Limitrofe Nella facoltà Da cui proviene Passiamo All'ingegneria automatica Ingegneria automatica È come vi dicevo È un indirizzo Del corso di laurea Di cui stiamo parlando Cos'è l'ingegneria informatica È la tematica Che si occupa Della modellazione Della simulazione Del controllo Di sistemi Che operano In condizioni Di autonomia Esempi Clamorosi Di questi sistemi Sono all'ordine del giorno Per esempio Sistemi robotici Sia nell'ambito industriale Sia in altri ambiti Per esempio In ambito Dell'entertainment Oppure sistemi di navigazione Sistemi spaziali Sistemi per la produzione E gestione di beni E servizi E risorse ambientali Ma anche sistemi Utilizzati in ambito Di applicazione Biomedico Tutti i sistemi Pensate per esempio Sistemi che supportano Un medico O un chirurgo Nella propria attività Sono tutti sistemi In cui l'automazione È fondamentale Quindi la capacità Di svolgere Qualche compito In modo autonomo O comunque A supporto Degli altri Ovviamente L'ingegnere automatico Deve avere anche Una preparazione Di informatica Ma deve anche Sare attento Ad altre Discipline Per esempio Anche la meccanica Oppure l'elettronica Eccetera Allora io qui Vi do solo Una brevissima Quadro Molto sintetico Delle tematiche Dei corsi Degli insegnamenti Che dovrete Studiare Se volete Se vorrete Andare verso Questa direzione In questa figura Il rosso Sta a significare Insegnamenti Di base Come la matematica La fisica La statistica Eccetera Il blu Sta a significare Insegnamenti Relativi All'automazione E azzurro Quelle invece Di informatica E arancione Quelle più relative Alla gestione Quindi all'ingegneria Gestione Vedete che c'è Un interessante mix Di queste cose Nella laurea Di ingegneria Informatica Automatica In particolare L'indelizzo Informatico Ovviamente Se voi lo confrontate Con l'indelizzo Automatico Vedete Più blu Che azzurro Perché c'è Questa Notare Che i primi due anni In realtà Sono comuni E la specializzazione Tra i due indirizzi Si realizza Attraverso il terzo anno Passo adesso All'ultima Laurea Di primo livello Offerta dal mio dipartimento Che è l'ingegneria gestionale Ingegneria gestionale Come dicevamo prima Studia l'organizzazione I processi Delle imprese E delle istituzioni Attraverso Un approccio Modellistico Quantitativo Quindi utilizzo Importante Di tecniche Matematiche Con l'obiettivo Di risolvere Problemi Di progettazione Gestione Organizzazione E controllo Dei sistemi produttivi È una figura professionale Che negli ultimi anni Ha avuto un grandissimo successo Proprio perché La tecnologia Quando si inserisce In un ambito Umano Ha bisogno Di un cambiamento Nell'organizzazione E nella gestione Questo cambiamento È supportato Da una vera e propria Disciplina ingegneristica Che è l'ingegneria gestionale Anche qui Ancora una volta Molto brevemente Vedete che I colori Cambiano un po' Anche se Nell'ingegneria gestionale Troviamo ovviamente Materie di base Materie Dell'automazione Dell'informatica Anche materie Mi sono scordato Prima di dirlo Vedete Quelle in verde Sono materie Limitrofe Dell'ingegneria L'elettronica Le telecomunicazioni E comunque ovviamente Qui c'è più Arancione Perché l'arancione Qui denota Proprio le materie Relative all'economia E alla gestione Infine La laurea Di ingegneria De formazione È erogata A latina E se volete Raccoglie un po' Tre indirizzi Fondamentali Che ripeto Indirizzo informatico Gestionale Ed elettronico In questa slide Vedete ancora una volta Insieme Diciamo La caratterizzazione Delle varie materie E Anche in questo caso Come potete immaginare Abbiamo Dei dati Clamorosi Sulla occupazione Qui si dice Che Abbiamo il 97 Virgolotto per cento Dopo Due anni Dalla laurea magistrale Ma in realtà Diciamo Il livello di occupazione Ornestamente Di tutti i corsi di laurea Di cui stiamo parlando È altissimo Certo Non avrete Se scegliete Corsi di laurea Di questa Facoltà Non avrete problemi Di occupazione Vi ricordo Che il numero Programmato È per ingegneria Informatica Automatica E ingegneria Gestionale Mentre non c'è Numero programmato Per la laurea Di latina Finisco Molto brevemente Dandovi Un quadro sintetico Delle lauree magistrali Non credo Che questo sia L'ambito giusto Per parlare Approfonditamente Di queste Però Diciamo Se a voi interessa La computer science Quindi l'ingegneria informatica Avrete almeno due Possibilità Concrete Di continuare Nella laurea magistrale Una Quello che noi chiamiamo Engineering In computer science Vi ricordo Che queste lauree Che hanno un titolo In inglese Sono erogate In inglese Che è Se volete La continuazione A livello di laurea magistrale Della tematica Dell'ingegneria informatica Abbiamo anche L'artificial intelligence Robotics Pensate che questa facoltà È stata la prima In Italia A istituire Un corso di laurea Di sua intelligenza artificiale Adesso Quasi tutte le università Stanno seguendo Questa linea Poi abbiamo Il controllo engineering Che è l'ingegneria automatica Quindi coloro Che hanno fatto L'indirizzo automatico E vogliono perseguire Questa tematica Possono continuare Con la laurea magistrale Ovviamente Anche l'ingegneria gestionale Ha la laurea magistrale E poi Come è stato Anche più volte ricordato Il nostro dipartimento Collabora Con l'erogazione Di corso di laurea In data science E corso di laurea In cyber security Direi che a questo punto Termino qui Vi ringrazio dell'attenzione Se avete Ulteriori informazioni Da acquisire Potete direttamente Accedere al sito Del dipartimento Di ingegneria informatica Automatica e gestionale Antonio Ruberti Ringrazio il collega E vi ricordo Che in realtà Se avete ulteriori domande Potete anzitutto Farne qualcuna La conclusione Ci manca sostanzialmente Un solo intervento Nonché venirci a cercare Allo stand Subito qui fuori Passerei quindi La parola Alla professoressa Maria Brigida Ferraro Che ci parlerà Dei corsi di studio Dell'area di scienze statistiche Grazie Carlo Buon pomeriggio E benvenuti Anche da parte mia Prima di parlare Però dei corsi di laurea Offerti dal mio dipartimento Che è quello di scienze statistiche Partirei proprio Dalla definizione Di statistica Cos'è la statistica Qui vi ho riportato Una definizione Del US News World Report Del 2022 Che la definisce Come The science of using data To make decisions Infatti Possiamo definire La statistica Lo studio Di fenomeni collettivi Naturali E sociali Attraverso Dei metodi Matematici Il metodo Di campionamento Il calcolo Delle probabilità Rilevazione Rilevazione dei dati Analisi Di questi dati E soprattutto Interpretazione Dei risultati Che otteniamo Che cosa si impara A statistica Trattare i dati Per poterli poi Trasformarli In conoscenza Perché ovviamente Come vi ho scritto I dati non parlano Da soli Quindi Questa è la nostra Grande sfida Analizzare la variabilità Dei fenomeni Descrivere Sistemi complessi E prendere decisioni Anche in condizioni Di incertezza Basti pensare Agli ultimi anni Alla pandemia E quindi In quell'ambito Sono state prese Parecchie decisioni In condizioni Di incertezza E anche valutare E gestire il rischio Appunto Non solo sanitario Come in quel caso Ma in generale Di impresa O rischio finanziario E poi anche Valutare L'impatto Di progetti Di investimento pubblici E privati Gli studenti Che si iscriveranno A statistica Gli studenti di statistica Acquisiscono basi Molto solide Soprattutto In questi Diciamo In questi ambiti Matematica E probabilità Informatica Statistica Appunto E in generale Metodi quantitativi Per le analisi sociali Economiche E aziendali E quindi Diciamo L'idea è di studiare Dei fenomeni reali Attraverso appunto Opportuni Metodi quantitativi Ci sono moltissimi Appunto profili Professionali Che si possono Però sintetizzare In questi due Che ho riportato Qui in questa slide La figura Dell'attuario Che è l'esperto Di metodi Matematici E statistici In ambito Sia assicurativo O finanziario E creditizio E poi la figura Del data analyst Di cui già abbiamo Sentito parlare In precedenza Che è un esperto Di metodi Matematici Statistici In vari ambiti Economico Demografico Sociale In ambito Medico Sanitario Ambientale Ottimizzazione E logistica Perché statistica? Allora Se facciamo riferimento Ad Alma Laurea Di cui già Hanno parlato anche I colleghi In precedenza Che appunto È un consorzo Universitario Che conduce Proprio indagini Sul profilo E le condizioni Professionali Dei laureati Per quanto riguarda Statistica È consigliata La laurea Statistica Anche solo Di primo livello Il tasso Di occupazione Raggiunge Circa il 94,5% A 5 anni Dalla laurea Magistrale E se vi può interessare La retribuzione Netta mensile È superiore Rispetto Alla media Vi ho riportato Qui proprio Una definizione Che trovate Nell'ultimo rapporto Di Alma Laurea Del 20 ottobre 2021 Appunto Che definisce La statistica Come la chiave Per comprendere Sistemi e fenomeni Complessi Come per esempio Parlando di Due Grandi attualità Crisi Climatiche E appunto Pandemie Inoltre È inserita La figura Del laureato Comunque Dello statistico Tra le prime Dieci migliori Professioni Negli Stati Uniti Per il 2022 Quindi questi sono Dati molto recenti Nell'area del business E qui Riporto Varie figure Non solo Lo statistico Il financial manager L'attuario E anche Il ricercatore operativo Nelle prime Dieci Posizioni Perché Statistica Alla sapienza Sicuramente Per le ottime Prospettive Professionali Poi ci tengo A settolineare Sempre questo aspetto Dell'ottimo rapporto Docenti Studenti Anche se Negli ultimi anni Per nostra grande fortuna Sono aumentati i numeri Dei discritti A statistica Però continua Ad esserci un ottimo Rapporto Docenti Studenti E questo è uno Dei nostri punti Di forza E si è seguiti Nello studio Quindi avete la possibilità Di fare delle prove Intermedie Che poi vi serviranno Come sonero Di una parte Magari dell'esame finale Laboratori E tirocini E poi c'è lo sportello Tutoraggio Che è molto utilizzato Soprattutto dagli studenti Dei primi anni Dei corsi di studio Si frequentano i corsi In modo confortevole Nessuna lunga attesa Per esami E tesi E poi come già citavano I colleghi Degli altri dipartimenti C'è l'opportunità Anche di fare Delle esperienze All'estero In particolare Con il programma Erasmus Passiamo ora All'offerta formativa Allora Il dipartimento Di scienze e statistiche Offre tre corsi Di laurea triennali Statistica Economia Finanze Assicurazioni Statistica Economia Società E statistica Gestionale Che è il corso Di studi Più metodologico Tra i tre Poi abbiamo tre corsi Di laurea magistrale Scienze attuali E finanziarie Scienze statistiche E un corso di laurea Interamente in inglese Che è Statistical Medals and Applications Oltre al corso Di laurea magistrale Interdepartimentale Di cui già abbiamo Parlato E giusto Per darvi anche un'idea Poi c'è anche la possibilità Di un dottorato di ricerca In scuola di scienze statistiche Offriamo anche due master Di secondo livello Parliamo un attimo Adesso degli esami Dei nostri corsi Di laurea I tre Le tre lauree triennali Hanno nove esami In comune E tre esami Di matematica Uno di probabilità Tre di statistica Uno di informatica E uno di economia Questo per dirvi Che se anche all'inizio Siete un po' indecisi Siete sempre in tempo Poi diciamo Per cambiare idea Proprio perché ci sono Questi esami in comune Almeno per il primo anno Anno e mezzo Infatti il primo semestre Almeno il primo semestre Del primo anno Diciamo I studenti di statistica Sono divisi per lettere Piuttosto che per corso di laurea Proprio per questo motivo Diciamo Di questi esami Che si hanno in comune Però ovviamente Poi ci sono anche Delle caratteristiche diverse Nei tre corsi di laurea E qui vi ho riportato Proprio per differenziarli Delle parole chiave Per quanto riguarda Statistica Economia Finanza Assicurazioni Mi soffermerei Proprio sulla parola Assicurazioni Economia Finanza Misurazione del rischio Per quanto riguarda Statistica Economia Società Demografia Economia Sociologia Metodi statistici Statistica gestionale Invece appunto Sempre metodi statistici Che comunque È la parola Chiave in comune Dei tre corsi di laurea Gestione informatica Dei dati Logistica Ottimizzazione Azienda Come funziona L'università Questo è un po' In comune Tutti i corsi di laurea Ho fatto un po' Una sintesi Quindi si devono Accumulare ovviamente 180 punti Che sono i crediti formativi O CFU Circa 60 ogni anno E i crediti ovviamente Si ottengono con gli esami Lingua inglese Altre attività E la prova finale Che faranno diciamo Parte del vostro piano di studi E ci sono i due semestri Con tre sessioni di esami E i due appelli straordinari Dove trovare le informazioni Questo penso sia molto utile Per gli studenti C'è il portale del catalogo Di Ateneo Di corsi di studio Dove potete trovare Appunto le informazioni Relative a tutti i corsi di studio Non solo quelli ovviamente Del dipartimento di scienze e statistiche Questo è un catalogo Diciamo della sapienza E indicando il corso A cui siete interessati Potete trovare appunto Informazioni Nella parte appunto Del corso La descrizione generale Nella parte del percorso formativo Trovate gli esami Ed altre attività Che sono previste appunto Nel triennio Iscriversi Quindi bande Procedure e scadenze E in frequentare Trovate invece i programmi I docenti E l'orario delle lezioni Ovviamente questo Lo potete trovare Su tutti i corsi di laurea In particolare Qui vi ho riportato Appunto i link Per i tre corsi di laurea Triennale Che sono offerti appunto Dal dipartimento Di scienze e statistiche E Vi aspettiamo numerosi Penso di avervi detto Le cose fondamentali Qui ci sono appunto La pagina web Del dipartimento DSS.niromono.it Abbiamo anche una pagina Facebook del dipartimento E questa invece È la mail Della commissione Orientamento Del DSS Grazie a tutti Dunque grazie anche Alla collega Brigida Ferraro Come vi dicevo Io adesso vorrei darvi Piuttosto velocemente Alcune informazioni Invece un po' più pratiche Su come ci si scrive Dove si possono tenere Maggiori informazioni Ricordo che E non facessimo in tempo A Poiché siamo leggermente in ritardo A rispondere a ogni domanda Che doveste avere Vi aspettiamo allo stand Così l'ho detto varie volte E Spero insomma Che il messaggio rimanga La prima informazione Importante per voi da sapere È che ci sono due grandi tipologie Di corso di laurea Che noi offriamo Alcuni sono a numero programmato Alcuni In gergo Si dice Sono con prova di verifica Delle conoscenze Cosa significa In entrambi i casi Per potersi scrivere È necessario Prima fare un test La differenza è che Per i corsi a numero programmato Si fa proprio Un ordinamento Dei potenziali candidati Sulla base del merito Come rispondete Quanto bene rispondete A questo test Entrano i primi X Cioè il numero di persone Che vedete scritto lì E tra qualche secondo Vi spiego con che criteri Negli altri casi Il test si fa lo stesso Attenzione che è obbligatorio Però primariamente serve a voi Dico primariamente Perché c'è un piccolo inghippo Comunque verso la fine Serve per voi Per capire Che tipo di preparazione Ci aspettiamo Da uno studente Che entra E che auspicabilmente Da settembre Ottobre Deve cominciare A tenere il ritmo Seguire le nostre lezioni Inizia il semestre Insomma Mostrarci che è al paro Con tutti gli altri E non con particolari carenze Nella propria preparazione Ora Dove avere anzitutto Più informazioni Sul nostro sito Questo è uno screenshot Di oggi Ieri Quindi più o meno Lo dovreste trovare Anche voi così Andate nella sezione Didattica Lì in alto Quindi su quella Barra blu Che vedete in alto Subito sotto il nostro logo Su didattica Le trovate prove d'accesso E lì vedrete Sulla destra Ci sono tutti questi link I link sono A dei documenti Orribili Ve lo dico subito Sono dei grandi File pdf Qui c'è La fotografia Della prima pagina Di penso Siano tutti o quasi Con il bando Il bando È il riferimento giuridico Dove trovate Tutto quello Che occorre Veramente sapere E quindi tutto quello Che occorre fare Per iscriversi Qualsiasi dubbio Qualsiasi Cosa Non sia del tutto chiara Dopo quello che abbiamo detto oggi Lo trovate qui Ovviamente potete sempre Contattarci ai riferimenti Che avete visto prima Li ha mostrato il preside Li mostro io alla fine Però primariamente Per voi Il riferimento è questo Ogni corso di studio Quasi ogni corso di studio Troverete il proprio bando Il funzionamento È circa lo stesso per tutti È quello che io vi riassumo Ma i dettagli sono là Dunque Cosa intendo Dicendo che il funzionamento È circa lo stesso per tutti Che abbiamo dei test Come vi dicevo Di ingresso Sono gestiti da un consorzio Non solo Quindi nostri sapienza Attenzione perché Questo è un punto particolare Di sicuro Non solo nostri La nostra facoltà Ma proprio non solo sapienza Il consorzio si chiama Cisia Ha un sito Che trovate lì Anche le mie slide Così come quelle Che avete visto oggi Saranno disponibili sul sito Quindi Non serve che facciate Foto O vi scrivete il link Lo trovate Sulle mie slide Lì per intendersi È possibile anche trovare Dei test Se volete esercitarvi Prima di fare Il test Vero e proprio Insomma da casa E È possibile fare Questo Questo test In vari momenti Dell'anno Tra un po' Ci arrivo Il punto è che Ogni volta che ci provate Dovete prima Iscrivervi presso il Cisia Quindi presso un consorzio Pagando 30 euro Che è quello che richiede Questo consorzio Per poter fare questo test Per intendersi Lo dico esplicitamente Anche se Non è pienamente Quello il nostro messaggio principale Dopo aver sostenuto Il test del Cisia Per esempio Il test cosiddetto Talk I Per i corsi di ingegneria O Talk S Per quelli del ramo scientifico Che vale per uno dei corsi Di informatica O Talk E Per economia Che però vale anche Per i nostri corsi di statistica Voi potreste iscrivere Con quel test In tantissime università D'Italia In tante facoltà in Italia Politecnici Varie altre facoltà di ingegneria Non necessariamente da noi Quindi è molto importante Che capiate Che sono due momenti separati Questo lo dico Perché adesso ci arrivo Dopo aver fatto il Talk E averlo passato Dovete dichiararci Guardate che l'ho fatto per voi Quindi dirci Che volete iscrivervi presso di noi E non semplicemente Aver fatto il Talk Ok? Allora I Talk Come stavo preannunciando Sono leggermente diversi Quindi il Talk I Vale per alcuni dei corsi di laurea Primariamente Per intendersi Quelli dell'area di ingegneria Che avete sentito prima In due presentazioni Il Talk I Potrebbe valere anche Per quelli di scienze statistiche Ma in realtà vale anche il Talk E E poi abbiamo Il Talk S Per il corso nuovo Quello in lingua inglese Del Dipartimento di informatica La struttura è più o meno simile Vedete che la differenza È la presenza o no Della sezione di scienze Solo per il corso Di informatica In lingua inglese È possibile anche Sostenere un test diverso Che trovate di nuovo Sulle mie slide Lì Il link Qualora lo voleste fare Questo è un test Molto più diffuso In America Per intendersi Ed è considerato equivalente Però di nuovo Per i dettagli Sui singoli corsi di laurea Che io purtroppo non ho il tempo di darvi Fate riferimento al bando Quindi ricordate Home page della nostra facoltà Didattica Prove di accesso E sulla parte destra del sito Quindi vi dicevo Informazione importante Dopo aver passato il Talk Dovete a questo punto Venire da noi in sapienza E dirci Guardate Voglio iscrivervi da voi Questo È leggermente diverso Tra i corsi a numero programmato E i corsi invece Che hanno solo Una verifica delle prove Come vi dicevo Delle vostre competenze In ingresso Per i corsi a numero programmato Sostanzialmente Il numero totale di studenti Che avete visto all'inizio Nella mia prima slide È diviso inizialmente In tre gruppi Dopo vediamo alcuni piccoli dettagli In cui sostanzialmente Chi ha fatto il Talk E poi è venuto da noi Pagando altri 10 euro Per iscriversi alla selezione Entro il 14 aprile Quindi l'ho messo in grigio Perché ormai è passato Partecipava a assegnazione Di un terzo dei posti disponibili Chi fa il Talk Verrà da noi A fare domanda Appunto Mostrandoci i risultati Del proprio test Entro il 25 luglio Partecipa all'assegnazione Di un altro terzo dei posti E chi invece fa il test Tra il 29 luglio E il 12 settembre Partecipa all'ultimo Terzo dei posti E qualora Alcuni dei primi due terzi Non fossero stati assegnati Insomma Nelle prime finestre Allora si fa anche Un ripescaggio Chiamiamolo così Si scorre la graduatoria Nell'ultimo caso Quindi ricordatevi Importantissima questa informazione Si fa prima il Talk E poi si deve venire da noi A chiederci di iscriversi In tre finestre temporali Chi ha già deciso È praticamente Insomma sicuro di volerci provare Grazie Avete tempo fino al 25 luglio Quindi pochissimo Per provare la seconda finestra Tutti gli altri Possono provare con calma Durante il mese estivi Il test Talk Si può fare Quante volte volete Lo gestisce il SISIA Chiaramente ogni volta Sono 30 euro Quindi magari prima Esercitatevi sul sito Che ho fatto vedere prima Chiaramente vale La volta che prendete Il ponteggio più alto Ok Per il computer science And applied intelligence Il funzionamento È molto simile Cambiano un pochino Le soglie dei punteggi minimi Perché cambia un pochino Il test iniziale Ve l'ho fatto vedere prima Il riferimento è sempre Il pdf del bando Chiudo con un dettaglio Cosa succede Se al test Non andate proprio In maniera brillantissima Questo vale un po' di più Diciamo statisticamente Per i corsi Non al numero chiuso Però in linea di principio Può valere per tutti Qualora non raggiungeste Al test Un punteggio minimo Uguale a quello Che vedete in questa slide Sarete soggetti A quello che in gergo Chiamiamo un obbligo Formativo aggiuntivo Cosa significa Dovete dimostrarci Che abbastanza rapidamente Riuscite a mettervi Alla pari Con tutti gli altri studenti Come si fa questo? Beh, noi mettiamo a disposizione Del materiale apposito Su Moodle Scoprirete presto Che è il nostro gergo Per la piattaforma di e-learning Quindi c'è del materiale online Dove è possibile In questo caso specifico Indicato Il caso dei precorsi di matematica Ottenere maggiori informazioni Nel dettaglio Su eventuali Diciamo competenze di base Che noi ci aspettiamo Poi sostanzialmente Come si fa Ad assolvere l'OFA Cioè a dimostrarci Che è andato tutto bene Che vi siete messi in pari Entro La data che vedete lì Quindi entro la fine Del primo anno sostanzialmente Ottobre dell'anno prossimo Anno accademico intendo Dovete sostenere L'esame indicato Sul singolo pdf Sul singolo bando Che voi vedrete Ve lo dico in soldoni Generalmente È uno degli esami Che erano in rosso scuro Nella presentazione Che abbiamo visto prima Quindi si tratta di esami O di analisi matematica O di algebra O di statistica Uno degli esami di base Cambia da corso a corso Lo trovate sul bando Quindi questi sono I nostri riferimenti Io quasi quasi Lascerei questi Durante la testimonianza Degli studenti Perché siamo sempre A vostra disposizione Sia sui canali social Ma soprattutto Con l'email Quello Il primo che vedete in alto È il nostro sito Maggiori informazioni Nonché i bandi Li trovate lì Adesso vorremmo Brevemente Farvi sentire Una breve testimonianza Da parte di alcuni Nostri studenti Che per caso Sono anche Rappresentanti Nell'assemblea Della nostra facoltà Dopodiché Come vi dicevo Dovremmo avere Dei tutor Che possono Passare Per l'aula Per rispondere A vostre eventuali domande Dubbi Eccetera Se posso Permettermi Nell'attesa Che gli studenti Arrivino In questo momento Cercate di fare domande Abbastanza generali Se ne avete Curiosità Cose così Per aspetti Molto specifici Venite allo stand Noi siamo sempre Molto felici Di rispondere a ogni domanda Oppure scriveteci Prego Presentatevi brevemente Raccontateci La vostra esperienza Buon pomeriggio A tutti quanti Io sono Altea Rappresentante Degli studenti Della facoltà E nel Nel particolare Sono una studentessa Del dipartimento Di informatica E devo dire Che è veramente Molto bello Vedere così tante persone In presenza Anche dopo questo Periodo di pandemia Perché Sì Ok Le lezioni online Si studia comunque Però È molto Ma veramente Molto più bello Stare tutti insieme Stare con i propri colleghi Stavare amicizie Ricordo Quando Stavo io Al posto vostro La seduta A vedere la presentazione Della facoltà Che ancora sceglievo Stavo di Ok Scelgo questa Ateneo Ne scelgo un altro Non lo so Però devo dire Che sono molto felice Di aver scelto La Sapienza Anche perché Mai mi sarei Aspettata Tutta la collaborazione Che poi ho visto Tra studenti È nata una comunità Praticamente Sui social In cui Gli studenti Ci scambiamo Gli appunti Tra di noi Che sia per Una singola informazione Stupida Su dov'è l'aula O su cose Molto più importanti Come un Non ho capito Un argomento E devo Fare questa cosa Per favore C'è qualcuno Che mi potrebbe aiutare Gli studenti Sono molto disponibili Tra di loro E mai me lo sarei aspettato Credevo che L'università Fosse più un Pensa a te stesso E vai avanti Invece no Qui ho trovato Molta collaborazione Anche con i professori Sempre disponibili Che stanno lì E dicono Se non capite qualcosa Scriveteci Ci siamo E effettivamente Ci sono E mi sono trovata Veramente molto bene In più Una mia grande paura Era quella Del gender gap Insomma Che si dice Che informatica Non è da donne Ingegneria Non è da donne Quando poi In realtà Entrata Ho visto che Le ragazze Spaccano Insomma Anche io posso fare Anche io posso entrare E in più L'anno scorso C'è stato un bellissimo dato Che ad applied computer science Artificial intelligence L'anno scorso Si è registrato Un 46% Di iscrizioni femminili Quindi Questa è una dimostrazione Che ingegneria Per donne Ingegneria Anche E per tutti quanti Soprattutto Posso parlare Per informatica Per il dipartimento Di informatica Ciao a tutti Io mi chiamo Andrea Sono studente Del terzo anno Di informatica E anch'io Come Altea Sono rappresentante Degli studenti Per la facoltà Di I3S Cercherò di essere Il più breve possibile Io anche Insomma Tre anni fa Ero più o meno Lì Tra di voi E non capivo Perché Cosa dovessi scegliere Insomma All'interno di questa facoltà Perché comunque È molto ampio Abbiamo visto Abbiamo quattro diversi Dipartimenti E la fine ho scelto Il dipartimento Di informatica Anche se Provenendo da un liceo Scientifico E immagino anche qui Tra di voi Ci saranno tante persone Che vengono da licei Così come tanti altri Da istituti tecnici Magari non hanno mai Messo mano Su linguaggi di programmazione O d'altro Si poteva pensare Potesse essere Diciamo Un ostacolo Se posso darvi Un consiglio Un consiglio Che comunque a me Diede un professore In università Durante un laboratorio Proprio di programmazione È quello che Anche se uno ha già Delle basi Acquisite al liceo Che possono essere Di matematica Di informatica Di quant'altro Azzeratele Mettetele da parte E venite a lezione Con la voglia Di imparare E non Tra molte virgolette Con la presunzione Di sapere già Determinati argomenti Perché ogni docente Ha la peculiarità Di poterci Spiegare le cose In maniera diversa Quindi di riuscire In qualche modo A comprendere Diverse sfaccettature Dello stesso argomento Che se noi Veniamo a lezione Con determinate Conoscenze Diciamo E con determinati Ancoraggi Probabilmente Non riusciremo a cogliere Quello che posso dirvi È che Iniziando tre anni fa Purtroppo Magari il mio percorso Come quello di tanti altri studenti È stato Forse rovinato Magari anche dal covid Ma se c'è qualcosa Che mi ha potuto aiutare A capire effettivamente Quanto fosse bella L'università È stata la fortuna Di avere Di conoscere persone Che mi hanno magari avvicinato Anche alle associazioni studentesche Che ci hanno dato la possibilità Di vedere A 360 gradi Cosa è l'università E quindi non soltanto esami Ma la possibilità Di conoscere persone Prevenienti anche da altre Facoltà O magari di fare esperienze Che normalmente Non avrei potuto fare Sulle nostre magliette C'è scritto Anche in generale Un hashtag Io scelgo Sapienza Lì Quando ero tra di voi Non sapevo perché Scegliere Sapienza Ma dopo tre anni Posso dirvi senza problemi Che la risceglierei Almeno altre dieci volte Grazie Buon pomeriggio a tutti Io mi chiamo Alice Calamita Ho studiato ingegneria gestionale Qui in Sapienza E vorrei raccontarvi Molto brevemente La mia esperienza Il motivo per cui Ho scelto gestionale E quali opportunità Offre Sapienza Secondo il mio punto di vista A me affascinava molto La matematica E mi sarebbe piaciuto Studiare Anche qualche principio Di economia Di gestione Di management E mi piacevano Le applicazioni reali Quindi per questo motivo Ho deciso di studiare Ingegneria gestionale E una cosa Che ho scoperto Poi andando A frequentare Questo corso di studi È la grande importanza Dell'informatica Come strumento di calcolo E strumento di Per prendere Per prendere Le decisioni E quindi Consiglio a tutti Di andare A studiare Ingegneria gestionale In Sapienza Perché gestionale Fa parte proprio Della facoltà Dell'informazione E per questo C'è un grande ruolo Dell'informatica All'interno All'interno Del corso di studi E poi Mi prendo Diciamo La libertà Di consigliarvi Anche tutte le varie opportunità Che Sapienza offre Grazie all'enorme rete Di contatti Che c'è All'interno Di questa facoltà E che i docenti Della stessa facoltà Hanno Quindi la possibilità Di fare Erasmus La possibilità Di fare la tesi All'estero Di andare Presso Alti Atenei O presso Aziende Appunto A svolgere Parte del Del corso Di formazione Perché sono Delle opportunità Non solo Formative Ma anche Di vita Grazie Ciao ragazzi Io sono Valerio Tomassetti E sono rappresentante Degli studenti Sono al terzo anno Di ingegneria gestionale E io farò Un brevissimo intervento Per dirvi Quanto è importante Venire in presenza Secondo la mia esperienza Io credo che in presenza Si impari Veramente Molto di più Rispetto a studiare A distanza Perché si impara A fare Un dialogo Costruttivo Sulle materie Perché questa Funziona così Perché questa cosa Funziona in questo modo E non in quest'altro E penso che sia Veramente questo Il principio Della comunità Universitaria Imparare a capire Perché Questa cosa Funziona Così Non è Non è scontato Secondo me Molti studenti Vorrebbero seguire Da casa Più spesso Io invece Dico che È molto più Utile E affascinante Venire a seguire In presenza Tutte le lezioni Che offre Insomma il nostro Ateneo Ingegneria gestionale Ma mi riferisco A tutta la nostra facoltà Che è una facoltà Veramente valida Come dicono I dati Che ci hanno mostrato prima Ringrazio il preside I professori Per questa opportunità E spero che vi troviate bene Nella nostra facoltà Grazie Come vedete Siamo molto bravi A ricattare I nostri studenti Dunque Se avete domande Ci sono dei tutor Nei due lati Dell'aula Alzate semplicemente La mano Loro vi portano Il microfono E così possiamo Provare a rispondere Abbiamo una decina Di minuti Quindi Forse posso rimanere Non so In caso avessero domande Anche per voi Se vi va Rimanete E prego Non siate timidi Provate a chiederci Qualsiasi cosa Possa venirvi in mente Se alzate la mano Vi porteranno il microfono Sicuramente Siamo stati Molto chiari Però Magari Con il poco tempo A disposizione Avremmo potuto Dirvi di più Quindi Chiedeteci Cosa potreste Pensare In questo momento Ne abbiamo una Io volevo chiedere Quanto durasse Il punteggio Del TOR Che c'è A livello temporale Nel senso Io l'ho fatto L'anno scorso A luglio Posso riutilizzarlo Adesso per L'iscrizione In questo momento Oppure Scaduto Devo rifare Allora Io chiedo Comunque Conferma anche Alla manager didattico Che è qui Credo che Da gennaio Possa Valga Giusto Dal gennaio Dell'anno scorso Da gennaio 2021 Si può ottenere Il punteggio E In generale Eccolo qua Ok Era scritto piccolo Faccio mea culpa E Si può provare Anche più volte Comunque In caso che il punteggio Non fosse tutto Soddisfacente Questo Non lo so E In ogni caso È un'ottima occasione Per ripetere anche Che il riferimento È sempre Al bando Quindi Attenzione Io ho cercato Di fare attenzione Anche appunto Con l'aiuto Del personale Di scrivere tutto Bene La mia presentazione Ma Spero Non ho potuto Indicare tutto qui Quindi Attenzione A leggere bene Il bando Su queste cose Però Da gennaio 2021 Il talk Per noi Quest'anno È valido Quindi Se io faccio il talk Più volte Per una determinata selezione Viene considerato Il punteggio più alto In automatico Cioè come viene preso Il punteggio Dal sito Cisia Dunque Alla selezione Credo che ti puoi scrivere Una sola volta Eh sì Però dico Se faccio Più talk Per una selezione Poi mi scrivo Una sola volta Alla selezione E quante volte Cioè quale punteggio Viene considerato Di talk Che ho fatto Quello più alto Il metodo specifico Con cui questo funziona Lo chiedo Tra un secondo Perché non sono Comunque Quello più alto Di sicuro Ah ok Ci si può Si può partecipare Naturalmente A più selezioni Perché se non va bene La prima Si può provare La seconda Fino alla terza Naturalmente Per ogni selezione Viene tenuto Il punteggio più alto Dei talk Sostenuti fino a quel momento Ci si scrive La selezione Fino al giorno prima Della scadenza Indicata nel bando E il talk Che deve essere sostenuto In quella finestra temporale Entro quella finestra temporale Quindi naturalmente Viene tenuto Il punteggio più alto La questione di iscriversi a più selezioni È legata al fatto che magari siete All'ultimo tentativo sul talk Dice io mi iscrivo alla selezione Ma se non ho Se non supero la graduatoria Se non supero il livello È un po' inutile iscriversi alla selezione Può essere che ho superato il livello Mi iscrivo alla selezione Ma sono sotto In graduatoria Quindi quello può succedere Ma in genere Non succede molto Se siete sopra Siete abbastanza sicuri Di entrare Di entrare in graduatoria Può essere che Vogliate catturare una finestra Di tempo Vi iscrivete a quella selezione E magari invece Il talk non è adeguato E vi iscrivete Ma La selezione Fa comunque un controllo Sui risultati del talk Presso il CISIA L'importante è iscriversi alla selezione Pagando i 10 euro Come ha spiegato nella slide Un conto è fare il talk E pagare i 30 euro al CISIA E un conto è iscriversi A ogni selezione di Sapienza Pagando i 10 euro Registandosi su Impostud Sono due cose separate Ma se non c'è l'una Non si può fare l'altra Quindi questo Io più che altro Volevo fare una domanda Effettivamente Perché Questo qua è più che altro Per vedere se riesco A decidermi effettivamente In quale dipartimento entrare Perché La mia situazione è un attimino Forse Non così peculiare Ma magari Anche abbastanza comune Ho esperienza Un po' a livello di linguaggi Di programmazione Effettivamente Perché Ultimamente stavo studiando Il linguaggio di programmazione Che è il C So che esiste il C++ E anche il C Sharp Però volevo prendere Effettivamente La base di tutti E tre i linguaggi Per prenderli in ordine Soltanto che In questa cosa Effettivamente Ho visto che È maggiormente indicata Nel Dipartimento Di Informatica Il ciò Collide un attimino Anche forse Con un altro mio interesse Che effettivamente È l'hardware Sono molto appassionato Effettivamente Anche di elettronica E volevo chiedere Se esiste Un qualche dipartimento Forse ibrido Tra virgolette Nel quale potrei andare Nel cercare Di soddisfare Entrambe le passioni Che ho Credo che a questa Forse possono rispondere Un po' Tutti e tre I colleghi Coinvolti Prego Prego Sì Allora innanzitutto Allora I linguaggi di programmazione Sono molti Tu imparerai Se vedrai In questa facoltà Che non è importante Sapere Un linguaggio Di programmazione Ma Ovviamente Le basi Che questa facoltà Ti dà Sono tali Per cui tu Puoi imparare Qualunque linguaggio Di programmazione In qualunque momento Se no È tutto fallito Cioè Quest'idea Che io so Il Cio Non conta Assolutamente nulla Voi dovete Diciamo L'ingegnere informatico L'informatico Deve avere Le basi Per capire Qualunque tipo Di linguaggio Perché i linguaggi Sono tutti Riconducibili A dei paradigmi Che studierete Va bene Prima osservazione Quindi Dopodiché L'ingegnere informatica Non sono importanti L'ingegnere informatica Questa è un'eresia Certo che lo sono Quindi Informatica L'ingegnere informatica Linguaggio di programmazione Sono il pane quotidiano Ma non è che ne imparerete Ne sperimenterete Sei, sette Nell'ambito Solo dei tre anni A ingegneria informatica Dopodiché L'hardware O il software Che è una buona domanda Ti dico solo Dal mio punto di vista Che l'ingegneria informatica Ti dà anche Le basi Ovviamente Dell'elettronica Cioè Impari anche Il corso di elettronica In questo ambito Ovviamente E quindi ci sono anche Diciamo Corsi relativi Ai sistemi A quello che si chiama L'approccio sistemistico E quindi all'hardware Nell'ambito di ingegneria informatica Ma immagino che ci sia lo stesso A livello di informati Quindi questa tua Diciamo Passione Che mette insieme Secondo me Può essere soddisfatta In vari ambiti Dopodiché Se non puoi proprio Non sai decidere C'è sempre Il problema della monetina Che ti salva Sicuramente Quello che dice Il professor Lenzerini Ci sono Metodologie Di programmazione Queste metodologie Possono poi Essere applicate A qualsiasi linguaggio E Ad apprendere A qualsiasi linguaggio Perché Riconosciamo Le caratteristiche Del paradigma Della metodologia Una cosa che forse Diciamo Allevia Il dubbio E che poi Dal primo anno È facile passare Anche Da un corso All'altro Perché le basi Tra Ingegneria informatica Ingegneria Delle telecomunicazioni Del primo anno Sono sostanzialmente Analoghe Quindi Già Uno può cominciare A Entrare Dove Vuole E dove pensa Di poter fare meglio E poi accorgersi Che Magari Vuole passare Da un'altra parte Se ha passato Gli esami Del primo anno Sarà facile Muoversi Fra I vari corsi Dunque Volevo Rasserenarti Nel senso Che qualunque Corso di studi Che è stato Qui citato Certamente Richiederà Capacità Di programmazione Quindi L'oggetto E poi La domanda È Su quale Versante Vuoi Concentrare La tua Preparazione Ora Per quanto riguarda Elettronica È ovvio Da quello che Ho mostrato Diciamo L'accento Maggiore Sull'ard Entrerai Quindi per esempio Per dirti I linguaggi Di programmazione Vanno da quelli All'alto Livello Fino a quelli Di basso livello Dove ti metteranno Davanti Di un chip Che da solo Non fa nulla Se non lo programmi Attraverso un linguaggio Macchina Che dovrai Imparare Ma Diciamo Come dire È Se vogliamo Una Una forma Di dettaglio Sebbene Richiederà I impegno Quindi Dovrai Concentrarti Un po' Su quello Che immagini Vorrai Andare a fare E su questo Comunque restiamo A disposizione Per ulteriori Approfondimenti Appunto Magari Anche Come dicevo Prima Interpellandoci Diciamo Venendoci Anche a trovare Noi siamo Ribadisco La disponibilità Anche Forse Darti anche maggiore Dico dare a te Ma come tu Invito a tutti Diciamo Maggiore Diciamo Dettaglio Su quello Che può Aiutare Ad immaginare Quello che può essere L'oggetto Di tuoi studi Ed eventualmente La tua Nella tua professione Grazie Beh sì Con l'occasione Ne approfitto Per sentire Se c'è fosse Un'ultima domanda Nel frattempo Vi dico Avete visto Il test di ingresso Il tipo di cose Che chiediamo Sono comprensione Verbale Capacità di analisi Logica Matematica di base Non è necessario Per iscriversi A nessuno Dei corsi Della nostra facoltà Conoscere già Le materie Che noi insegniamo Le insegniamo noi Non vi preoccupate Una domanda Su Invece Il talk Allora Non ho capito Per Con le facoltà Ad accesso libero Bisogna iscriversi A una selezione C'è pure là Una selezione Bisogna fare Comunque il talk Però ci si può Tranquillamente Iscrivere Entro settembre Vediamo un po' E Effettivamente Non c'è una slide Ok Bisogna fare Comunque il talk Ma ci si può Iscrivere Entro settembre Non c'è il discorso Delle tre finestre Perché quelle servivano Per allocare i posti Per i corsi In cui c'è un numero Massimo Di posti disponibili Entro ottobre Scusate Entro ottobre Sì Quindi comunque Bisogna fare il talk Ed iscriversi Entro ottobre La dinamica è la stessa Non c'è questa questione Del provare Entro una specifica Data intermedia Va bene Grazie Buonasera Io mi sono già iscritto Alla selezione Solamente che non ho ancora Svolto il talk Ce l'avrei il 21 luglio Quindi mi devo Iscrivere nuovamente Alla selezione Dopo aver fatto il talk Oppure va bene così Si è iscritto alla selezione Ma non ho ancora fatto il talk Se lo può fare Entro La lettura della finestre Se lo fa Entro la data Scritta qui Quindi entro Il 25 luglio Va bene il talk Altrimenti Purtroppo dovrà Iscriversi Alla terza selezione Entro il 25 luglio Quindi in realtà Entro il 24 credo Sì Ok grazie C'è una domanda Da parte di un docente Posso fare domanda io? Potete per favore Alzare le mani A chi aveva Ha già deciso Prima di entrare In quest'aula Ah nessuno? No forza Forza Ok No no Per capire Quanto possiamo incidere In una presentazione così Ah ok E quanti avevano Già quasi Deciso Ma non completamente Ok ragazzi Quindi è stato Completamente inutile Quindi No no sto scherzando Beh grazie Dunque io credo Che con i tempi Ci siamo Tutto questo materiale Che vi ho presentato oggi Lo potete ritrovare Di nuovo sul sito Se avete domande Ancora per una mezz'oretta Abbondante Ci trovate allo stand Altrimenti anche Domani allo stand Oppure Ci scrivete O fate riferimento A uno dei contatti lì Grazie di nuovo Per essere venuti E grazie ai colleghi Agli studenti Scusate posso fare A questo punto La domanda Chi non aveva deciso E ora ha deciso Grazie alle nostre Osservazioni Questo poteva essere utile Ah ecco Va bene Abbiamo Abbiamo Grazie Informatica automatica Innanzitutto I primi due anni Sono uguali È lo stesso corso E la differenza È che Informatica automatica Grazie a tutti 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 Grazie a tutti